La museruola è uno strumento che incattivisce il cane, la museruola rovina la relazione con il mio cane, la museruola è coercitiva, niente di tutto ciò è vero, è solo uno strumento e come tale va conosciuto. Ciao, sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog ed oggi ti voglio parlare dell'uso della museruola ed anche dei tipi di museruola che sono presenti sul mercato. Esistono diverse tipologie di museruola, esiste la museruola a gabbia che è quella canonica, quella che si vede in giro ovunque, quella generalmente di colore marrone e che chiude la bocca del cane ed ha una fibia dietro la testa e poi esistono le museruole a fascia che sono quelle che fondamentalmente si appoggiano sulle labbra del cane. Prima di entrare nel merito dell'uso della museruola vorrei spiegare che la museruola per alcune tipologie di razza è ad obbligo di legge. L'ordinanza Martini del 2012 prevede infatti che alcune tipologie di razze abbiano addosso o comunque con sé la museruola, soprattutto in alcuni luoghi pubblici come le funivie, come le navi, come i treni e quant'altro. Per le altre tipologie di cane è bene comunque insegnare l'uso della museruola per ottemperare ad ogni venienza. Personalmente come tecnico e come educatore cinofilo io prediligo la museruola a gabbia che è quella di cui abbiamo parlato all'inizio del video, cioè quella marrone o quella nera perché è più sicura e non permette al cane di sfilarsela. È comunque una museruola che permette al cane di respirare e talvolta anche di bere. La museruola a gabbia è una museruola che si trova in commercio a pochi euro ed è opportuno tenerla in vista attaccata al guinzaglio in modo tale che quando c'è necessità si possa tranquillamente prenderla e inserirla nel muso del cane. La museruola è uno strumento e come tale deve essere insegnato ad essere tenuto. Non è un processo velocissimo ma bisogna avere molta pazienza e farlo quotidianamente perché almeno due settimane ci vogliono affinché il cane si abitui all'uso della museruola. Se segui questa metodologia il cane imparerà tranquillamente a sopportare la museruola e a digerirla come uno strumento di vita quotidiana e vedrai che la relazione con lui assolutamente non si rovinerà e soprattutto non si chiuderà. Vedrai tranquillamente che passeggerà come prima anche con indosso la museruola. La museruola è uno strumento per la sicurezza del proprio cane ed anche per gli altri. Spero di esserti stato utile e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube e di seguire i nostri corsi sul sito www.affinitydog.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazionecinofila e sul nostro profilo Instagram affinitydog.educazionecinofila.